1, 2, 3 Stasera ho fatto una sessione che si basa più sulla pratica viva, reale, sulla prassi della pratica per quanto riguarda un certo tipo di stile di jazz. È un'esperienza che ho imparato anni fa frequentando i seminari di Barry Harris a New York che mi ha dato molto in termini pratici e anche in termini di resa musicale. Ho condiviso questa cosa, la mia esperienza, questa sera in questo seminario che mi rende particolarmente orgoglioso di averne fatto parte. Grazie a tutti.